Grazie mille. È stata evocata più volte la Price, in particolare per questo lavoro, questa survey annuale che da un po' di tempo Price svolge sull'applicazione concreta del decreto 231 in particolare, se non erro Nicola, nelle società quotate. Ti passo la parola, in particolare mi piacerebbe, astraendoci un attimo in qualche modo anche dagli specifici temi che finora abbiamo toccato, che tu ci dessi proprio sulla base di questo lavoro che fate, ormai a 13 anni come evidenziamo Marcella Panucci in apertura dalla introduzione di questo nuovo strumento normativo, che appunto nuovo ormai non è più, qual è il contributo che a tuo giudizio le linee guida di Confindustria hanno dato al sistema 231 e più in generale quali sono gli elementi da un punto di vista applicativo, concreto, sui quali tu ritieni vi sia ormai una ragionevole certezza tra gli operatori e quali invece quelli su cui ancora, alcuni di questi evidentemente quello dei gruppi è emerso finora in maniera chiara, quelli su cui invece tu ritieni vi sia ancora tanto lavoro da fare per tutto, per i consulenti e anche per le imprese, oltre che per le linee guida di Confindustria. Grazie. Grazie a te per l'invito e per averci dato l'onore di contribuire con la nostra esperienza applicativa alla revisione di queste linee guida che nel corso degli anni sono stati il punto di riferimento per tutti, perché a prescindere dai settori, a prescindere se fossero società quotati o meno, sono stati il punto di riferimento sia per le aziende ma anche per chi poi deve andare a valutare quella idoneità teorica o presunta di un modello organizzativo. Quindi sicuramente è stato uno strumento utile e importante che ha avuto anche un riconoscimento nella nostra survey quando il 97% delle società quotate hanno dichiarato di aver utilizzato le linee guida di Confindustria nel processo di redazione dei propri modelli. Quindi questo è un dato abbastanza, no no no, parlo di stati industriali, ho parlato di stati industriali. C'è qualche assicurativa che ha dichiarato che ha utilizzato le linee guida, quindi soprattutto su alcuni aspetti. L'informativa che diamo, perché sono statistiche, è che il 97% ha dichiarato di aver utilizzato le linee guida di Confindustria come punto di riferimento per la redazione dei modelli. Ti ringrazio per avermi dichiarato, sono un consulente, non faccio consulente soprattutto da vent'anni, dottor Ielo sia tranquillo, anche perché non avevo finito di laurearmi, quindi da questo punto di vista sono abbastanza sereno. Qual è stato invece il grosso lavoro che è stato fatto per cercare di dare uno strumento ancora più operativo a chi vive in questo mondo nel corso del lavoro che abbiamo congiuntamente sviluppato insieme ai colleghi del gruppo di lavoro sulla 231. Siamo a partire da dei dati che sono anche, sono stati ricordati dal dottor Ielo e dalla professoressa Severino. Stiamo parlando di 16 categorie di reati, oltre 130 fatti specie di reato. Allora, noi possiamo definire tutti i modelli, le linee di guida che vogliamo, ma questo rende in maniera così empirica una difficoltà operativa delle aziende a voler effettivamente costruire qualcosa di completo e strutturato. Le aziende le più virtuose, oppure quelle che credono che la compliance è un investimento, non solo un costo, ma l'operatività è abbastanza compressa, perché sono 130 fatti specie che devono essere analizzate per ciascuna categoria di rischio e voi potete ben capire la mole di attività che poi una società e le strutture di controllo devono mettere in piedi. Da questo punto di vista la mia esperienza di Presidente dell'Organizzazione di Vigilanza di una quotata, di membro di un'altra quotata, mi porta a dire che la costruzione del modello e le linee guida consentono anche a chi poi fa un'attività di monitoraggio una guida, una guida che ha un metodo, ha una struttura e l'ultima versione che voi avete avuto il privilegio di leggere pone proprio una serie di riferimenti chiari, cioè di guide. Faccio un esempio concreto per entrare un po' nello specifico. È stato introdotto un concetto di compliance integrata, perché? Perché il sistema normativo non è soltanto come è stato ricordato dall'Avvocato Mantovani e da altri, è un sistema soprattutto per quanto riguarda le regole anticorruzione in primis ma anche per altri fatti specie di reato, è ormai un sistema che molte paesi hanno adottato. Quindi l'approccio alla compliance integrata serve anche a ottimizzare i processi di controllo. E da questo punto di vista la parte speciale del documento individua proprio quali sono le fasi principali di articolazione del sistema di prevenzione dei rischi 2.3.1, dà una definizione finalmente di rischio accettabile, perché introdurre concetti di rischio zero in ambito compliance è credo abbastanza improponibile per un sistema aziendale. Quindi si dà una definizione di rischio accettabile, ci sono proprio indicati passi operativi per la realizzazione del sistema di gestione dei rischi e anche quali sono i principi di controllo che assicurano e le caratteristiche del componente del sistema di controllo che assicurano un certo percorso di ripercorribilità dell'attività fatta. E si fanno riferimenti ai framework. Perché? Perché è stata anche questa la razza delle nuove righe nella definizione del nuovo documento. Perché bisognava dare dei punti di riferimento. Non poteva essere un sistema autoreferenziato, bisognava trovare dei framework internazionali riconosciuti, in modo tale che tutti gli attori, quindi imprese, magistratura, consulenti tecnici e magistrati e altro, avessero un percorso, una metodologia perlomeno condivisibile. Anche perché se sono d'accordo con le osservazioni fatte sul sistema premiante, se le aziende non hanno il sistema premiante, si ha l'effetto opposto di considerare questa norma non un'ennesima attività burocratica che serve effettivamente a ben poco. Quindi è stato definito il rischio 2.3.1 nella definizione, ma in particolare prendendo l'articolo 6,1. Poi sono stati definiti con chiarezza i collegamenti tra i sistemi di gestione e alcune fattispecie di reato, faccio riferimento al sicuro del suo lavoro e alla parte ambientale. E poi è stato dato un concetto molto chiaro di elusione fraudolenta del modello, perché alla fine se la SIOMA è reato commesso, modello bucato, noi non credo che ci sono, si parte già uno punto di partenza sbagliato. La SIOMA e quindi il concetto che si è voluto esplicitare nella linea di guida è l'elusione fraudolenta dei modelli, perché quando c'è una lezione fraudolenta si deve capire il sistema, come diceva la professoressa Severino, il sistema preventivo che io ho creato affinché quel processo a rischio era stato ben identificato, un disegno di controllo ben identificato e un sistema di verifica, di monitoraggio che soltanto raggiro fraudolento poteva consentire la commissione di reato. E su questo abbiamo fatto credo un buon lavoro, se mi consenti Antonio, in quanto sono state date delle chiare indicazioni su come devono essere definiti le misure di sicurezza e idonee a prevenire l'efficacia del modello. Il collegamento con i sistemi aziendali, scusate, i sistemi di gestione e la parte ambientale ve ne ho parlato. E poi abbiamo un attimo focalizzato attenzione su quelli che erano a nostro giudizio un po' quello che dall'analisi della SARVI veniva fuori come elementi di disemogeneità oppure di informativa non coerente tra le sostanque quotate. Quindi ci siamo posti il problema, ma come mai sull'organismo di vigilanza, sulla metodologia, il disclosure informativa è molto chiara, dicono in maniera molto precisa le aziende quello che hanno fatto, su alcuni temi c'erano un po' di incertezza. E su questo le linee guida di Confindustria ha cercato di dare delle risposte. In particolare sono i modelli nell'ambito dei gruppi, ne abbiamo probabilmente parlato, quindi era un tema molto sentito. La scelta e il funzionamento dell'ODV, perché ricordiamoci anche tutto il tema del collegio sindacale, quindi la scelta di una serie, vi do un dato, soltanto il, non ricordo a memoria, ma ve lo dico, lo trovo, allora delle quotate soltanto il 7% ha utilizzato, cioè c'è la coincidenza fra organizza e vigilanza e collegio sindacale. Il 7% è andato molto tra società quotate e controllate. C'è un famoso gruppo, una società molto importante, quotata italiana, che ha fatto questo tipo di scelta, di coincidenza fra organizza e vigilanza e collegio sindacale. Quindi su questo anche le linee nuove sono abbastanza chiare. L'altra necessità era il discorso di dare delle risposte integrate all'esigenza della compliance, soprattutto, e poi se ci sarà occasione in un secondo giro, sull'ottimizzazione dei costi degli investimenti sui temi di compliance, che vi assicuro, da i dati che noi abbiamo dichiarati dalle sue quotate, non sono costi banali. E quindi, poi se ci sarà modo di approfondire questo aspetto, vi potrò dare anche delle indicazioni, soprattutto in termini di investimento, cioè le aziende non vedono un ritorno a quell'investimento in questo momento, per l'incertezza che si diceva prima. Poi, le ultime due cose sono la necessità, l'opportunità di definire dei compliance program multinorma in relazione alla crescente internazionazione delle imprese. Questo è un tema che è emerso dalla Salvice, non c'è chiarezza su questo, perché ci sono grossi gruppi internazionali che stanno adesso avviando degli approcci integrati proprio per ottimizzare i processi di controllo. Infine, l'aspetto più nebuloso era il coordinamento tra gli organi di controllo, anche alla luce dell'evoluzione delle tematiche di corpore e governance, cioè praticamente gli enni attori di controllo che ci sono in aziende quotate, che ormai non basta più una mano per contare quanti organi di controllo ci sono, quindi si è cercato anche di dare un contributo, in tal senso, nel documento aggiornato delle linee guida. L'elemento vincente, secondo me, che c'è stato nel tavolo di discussione è stato quello di prevedere, a un'ampia, una profondità di discussione, ma facendo emergere quali sono le vere necessità delle aziende in maniera pragmatica, conciliandole sia in termini di best practice con il riferimento che è quello internazionale e anche confrontandoci poi con le tematiche applicative di quello che si andava a definire, perché poi alla fine abbiamo cercato di dare un contributo pragmatico affinché questo sia uno strumento di lavoro più che un documento di principi. E su questo credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo. della survey, altri dati, ormai dicevo prima, il 97% ha dichiarato di aver, delle società quotate parlo, di avere un modello organizzativo un codice etico, il 94% delle società quotate ha optato per una composizione collegiale, mi sorprende ancora quel 6%, che significa che c'è un DV monocratico, quindi è un dato che ci ha sorpreso questo, devo essere proprio onesto. E invece c'è una presenza abbastanza omogenea delle professionalità dentro l'organismo di vigilanza, quindi di amministratori indipendenti, internal audit, responsabili di compliance e legali, responsabili legali nella convinzione dell'organo collegiale. La predominanza è sempre un organo collegiale con un numero di, diciamo, esterni o un numero di risorse che sono dichiarati indipendenti maggioritari rispetto se c'è una persona operativa all'interno dell'azienda. Questo è un dato confortante. Poi le fattispecie di reato sono trattate tutte, tranne naturalmente l'infiburazione, che forse per le cliniche, ma cliniche quotate non ce ne sono, quindi diciamo che l'infiburazione è una delle fattispecie di reato, come si ricordava, però nessuno ha dedicato una parte speciale nel modello. Un dato importante è che tutte le società quotate hanno definito un modello con due componenti, la parte generale dei principi e singole parti speciali. Singole parti speciali che vanno a riprendere le singole attività sensibili, quindi molto specifiche, alle tematiche dell'azienda e delle fattispecie di business dell'azienda organizzative, che consente poi anche, e questo è un dato che secondo me è abbastanza importante, è che c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni. Noi, come diceva Antonio, la salvia la facciamo da sette anni. Allora, noi abbiamo fatto una tabella bellissima di comparazione. Sette anni fa non c'erano informazioni confrontabili, adesso abbiamo informazioni confrontabili, leggibili, con un'evoluzione omogenea e questo grazie alle linee guida per il settore industriale parlo, poi per le linee guida A, B, per il settore bancario. Però effettivamente hanno dato un grosso impulso, in assenza di un dettato e di una struttura normativa chiara. È stato citato altre normative, io credo che l'Inghilterra è molto pragmatica al massimo, però il UK Brabri Act ti dice quali sono le procedure e se tu rispetti quelle procedure ti riconoscono l'adeguatezza, o sbaglio, di quel sistema. Io, beh, sono dei riferimenti chiari, c'è una norma che fa il rinvio, però molti riconoscono l'incertezza dell'applicazione della 231, perché questo è un dato vero. Però poi se mi sarà data occasione di parlare di costi vi do anche altre informazioni. Grazie.